Oggi è lunedì, sono tornato ieri dalle vacanze. Non vedo l'ora di andare a casa. Mia moglie mi ha lasciato la lista della spesa. Devo comprare della frutta. Sono davvero stanco. Non vedo l'ora che mia moglie torni dal lavoro. Ciao Luca, com'è andata al lavoro? Molto bene grazie, ma ora vado a letto. Buonanotte a tutti. Domani si torna al lavoro. Buonanotte a tutti.